buongiorno a tutti e benvenuti anche oggi nel mio canale oggi lezioni di uncinetto vi dimostrerò come realizzare un simil punto inglese che di solito viene lavorato ai ferri ma vi voglio far vedere o dimostrare che con l'uncinetto si può avere lo stesso un bellissimo risultato ideale per fare delle bellissime sciarpe e non solo come potete vedere il risultato è bellissimo e molto elastico come punto e potete fare delle lavorazioni sia in verticale che anche in orizzontale l'effetto è veramente bello vi lascio il tutorial per vedere come realizzarlo in maniera molto semplice buona visione in maniera molto semplice in maniera molto semplice in maniera molto semplice musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.